Un bacio a tutti gli amici di Gossip News da Silvì Lubamba La showgirl Silvì Lubamba, sempre piena di energie, ultimamente sta tentando nuove strade professionali senza troppo successo, anche se lei non si perde d'animo e sta abbastanza bene Faticosamente bene, è un periodo molto tranquillo in cui sto investendo tanto nel senso che continuo a mandare proposte, idee, curriculum a produttori, sceneggiatori, autori e vengo ricevuta e ascoltata con grandi sorrisi, grandi complimenti a Silvì ma come sei brava, ma come sei carina, ma come sei educata è un lessico, un linguaggio, una grammatica, si vede che sei nata a Firenze si sente, non si vede, si vede no perché sono... direi di no si sente che sei nata a Firenze eccetera eccetera però non partono...